Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi parlerò di Fragger ragazzi, un social network per veri gamer Allora, due nostri colleghi già sono entrati a far parte, sicuramente sapete chi sono E molte persone si stanno allacciando a questo social network Uno per la comodità e la semplicità Due anche per i feed e per poter mantenere meglio aggiornate tutte le persone che ci seguono In questo caso infatti qui potete vedere nella prima pagina l'immagine della mod e il video della mod stessa E con l'hashtag specifico, perché praticamente questo social network si basa molto sugli hashtag e sulle chiocciole Quindi praticamente potete ricercare per hashtag quello che volete trovare, quindi videogame in specifico Potrete trovare anche i trend, quindi i giochi del momento in questo caso Possiamo vedere Colossus, Evil Whiting, ci troviamo anche Minecraft, Resident Evil, Dark Soul, Far Cry e simili Spingendo qui potremo andare direttamente sui post di questo gioco, quindi tutte le persone che hanno utilizzato l'hashtag del gioco stesso Quindi molto comoda anche come ricerca Appunto possiamo ritrovare il nostro bellissimo canale scrivendo i febbag nella chiocciola E ci troverà tutti i canali con correlato i febbag Molto veloce, molto rapido nei caricamenti e molto comodo ragazzi Potrete invitare i vostri amici direttamente dai facebook tramite il tasto qui a fianco Potrete seguire il live se mettiamo il link di twitch o del nostro live direttamente su youtube E possiamo aggiungere altri amici In basso a sinistra, non so se riuscite a vederlo ma penso di no per colpa della mia webcam La leverò un momento Potete vedere i top hashtag, quindi potete andare a vedere le cose più cercate sopra questo sito In questo caso hashtag Nintendo E potete vedere tramite i score e i trend direttamente le persone più attive all'interno di questo social In questo caso nei trend possiamo andare a trovare, anzi negli score I nostri compagni amici Xander T, io amo i videogame, Nils Ruggero che lo conosciamo E Zeta Ulisse, quindi si sono trasferiti qua Fabio Chiaramonte, non li conosco molti, molti sarebbero da conoscere E sotto mi fa vedere anche i messaggi ultimi inviati dalle persone sopra citate Quindi molto particolare e molto comodo Specialmente se volete seguire con comodità le vostre pagine preferite Potete appunto anche qui vedere le reputazioni mi piace e non mi piace e tutto il resto In questo caso una persona ci ha aggiunto tre amici che io amo i videogame Che è un altro ragazzo, un'altra pagina che potete vedere qui Seguito da 212 giocatori e seguito da 426 giocatori anche No, segue 212 giocatori e seguito da 426 giocatori Molto particolare ragazzi, guardate i post Potete mettere foto, immagini, arriveranno molto velocemente con hashtag e chiocciole Quindi i tag sono molto più rapidi sia di Facebook E' molto più simile a Twitter che è un Facebook effettivamente Va bene ragazzi, noi ci troviamo qui sopra Aggiungeremo questo link nella descrizione di tutti i video E l'aggiungeremo in specifico molto in mostra sotto a questo video Così lo troverete immediatamente Vi consiglio di iscrivervi perché io posterò anche qui sopra i video della giornata Così sarà più comodo seguirci ragazzi Quando mancheranno i feed giustamente Va bene ragazzi, questo era Fragger Io sono Mordug e ci vediamo alla prossima puntata Così Ciao